BELLA REGATS, qui i palazzi e benvenuti sul mio primo canale Bella ragazzi, qui i palazzi Bella ragazzi, sono tornato Ciao a tutti ragazzi, eccomi tornato Bella ragazzi, sono tornato con un nuovo gameplay Salve ragazzuoli, qui i palazzi e benvenuti sul mio primo canale Bella ragazzi, qui i palazzi e benvenuti sul mio primo canale Qui i palazzi 95, sono tornato Bella ragazzi, sono tornato dopo poco Ovviamente qui i palazzi Bella ragazzi, sono tornato con un nuovo gameplay Minchia, ho chiantato in scena proprio da un picazzo che ce la fa proprio schifo, vabbè Bella ragazzi, qui i palazzi e benvenuti sul mio primo canale Oggi sono qui appunto per proporvi questo piccolo montaggino Visto che ho deciso appunto di variare Perché comunque arrivare ai 2000 iscritti per me è stato veramente un traguardo eccezionale Veramente non me lo sarei mai aspettato Perché quando iniziai non avevo tutta questa grinta, tutta questa voglia Non avevo molta gente che mi seguiva E ho deciso di fare appunto questo piccolo montaggino Partendo dal mio ultimo saluto Che è appunto quello che sentite in ogni mio video Che ormai mi viene anche da dire in giro Tampone anche la mia ragazza E passando appunto, tornando indietro col tempo E arrivando al mio primo commento Che è ovviamente scandaloso Però penso sia un'idea che avete visto veramente poco qui in Italia su YouTube E soprattutto che sia un'idea che vi possa far divertire E far riflette su come una persona possa cambiare Anche grazie a un piccolo social network Che è YouTube Perché uno pensa andando su YouTube di vedere solamente video Ma veramente ogni piccola cosa può cambiare ogni persona E spero di essere cambiati meglio Non solamente su YouTube ma anche nella vita E niente ragazzi Quindi vi ringrazio veramente Voglio bene a tutti Infatti se non sbaglio rispondo sempre a tutti i messaggi Se mi chiedete di mettere un mi piace tramite un messaggio L'ho sempre fatto Potete anche chiederlo a chiunque mi ha mandato un messaggio Il problema è essere delle sponsorizzazioni Che non lo faccio ragazzi Perché se no non sarebbe giusto E non so chi altro aggiunge ragazzi Veramente Ringrazio Flameg Mi raccomando ragazzi Passate al suo canale Perché è lui che mi ha fatto questo piccolo montaggio iniziale Vi ringrazio veramente un sacco Perché l'idea praticamente è nata da lui E passate al suo canale Perché è merita Io ragazzi vi ringrazio ancora per i 2000 iscritti Non me lo sarei veramente mai aspettato Mi raccomando ragazzi Se il video vi è piaciuto Se vi può essere piaciuto questa nuova idea Per questo piccolo ma grandissimo traguardo per me Lasciate un mi piace Commentate pensando se magari me ne sono meritati questi 2000 iscritti E iscrivetevi se non l'avete già fatto Bella ragazzi Vi ringrazio ancora Un saluto nel vostro palaz Vi voglio bene a tutti Grazie 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 a tutti